Il video di oggi sarà molto breve ragazzi state tranquilli perché è vero che oggi è mercoledì quindi ogni mercoledì come ormai sapete esce sempre un mio video ma è anche vero che oggi è Natale quindi non voglio farvi perdere troppo tempo voglio solo farvi gli auguri di Natale voglio fare gli auguri agli iscritti voglio fare gli auguri ai non iscritti ricordando soprattutto ai non iscritti che devono iscriversi al canale e basta riposatevi mangiate festeggiate fate cose eccetera 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 il 2020 sarà un anno molto figo perché ci saranno un sacco di novità sul canale ci saranno nuove collaborazioni ci saranno un sacco di recensioni sui prodotti nuovi ci sarà anche una parte didattica un pochettino più particolare più specifica per alcune cose con dei corsi poi vi spiegherò tutto soprattutto incomincerò a spiegarvi da gennaio cosa voglio fare per quanto riguarda i corsi quindi seguitemi su instagram perché vi spiegherò soprattutto lì comunque a parte tutto non vi preoccupate voi seguitemi sempre e vedrete tutto che poi vi sto dicendo tutte queste cose ma in realtà noi prima della fine dell'anno ci vedremo ancora però vabbè io ve le dico lo stesso una cosa invece molto 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 importante se ancora non l'avete fatto se ancora non avete visto il video precedente è quella del giveaway il giveaway natalizio di roland il video sul giveaway dove vi regalo delle cose dei prodotti dove vi regalo una tm2 dove vi regalo un paio di cuffie e un po di altre cose è uscito il 22 dicembre ma io ve lo lascio comunque in una scheda qui sopra così potete andare a vedere poi per partecipare all'estrazione dovete fare tutte le cose che vi dico ma in realtà sono delle cavolate sono molto semplici da fare fatti in 5 minuti questo niente era solo per ricordarvelo quindi direi che il video è già durato troppo poi dovete andare a mangiare quindi io vi lascerei per oggi penso di avervi detto tutto quindi io ancora in realtà voglio ringraziarvi perché questo canale sta andando comunque molto bene io sono molto molto contento ma è tutto grazie a voi grazie agli iscritti grazie ai non iscritti che non si iscrivono non so il perché ma guardano i miei video lo stesso quindi io vi faccio ancora i migliori auguri di natale e noi ci vediamo al prossimo video che sarà l'ultimo del 2019 e sarà bello secondo me sarà bello ciao ciao